Cantiere in Fipilì a poche settimane dall'avvio dei lavori per mettere in sicurezza la principale tra le strade regionali, non solo con interventi di asfaltatura ma anche con opere essenziali di manutenzione straordinaria, la Regione ha risposto per voce dell'assessore all'infrastruttura Vincenzo Ceccarelli alle polemiche arrivate da più parti per i tempi previsti del cantiere per i ritmi di lavoro. Non si tratta di una semplice asfaltatura, si tratta di un risanamento profondo, si tratta del rifacimento del reticolo idraulico, si tratta del rifacimento della barriera di mezzeria, del cordolo del viadotto del Turbone, insomma lavori complessi, importanti, che richiedono tempo. Da capitolato erano 380 giorni quelli stimati, la ditta che si è aggiudicata all'appalto ha ridotto i tempi a 280 con una organizzazione particolare del cantiere che noi stiamo monitorando perché ogni giorno sia realizzata la produttività che è prevista appunto dal capitolato di appalto. Quindi banalizzare questo lavoro come un lavoro di asfaltatura di 4 km di strada è semplicemente fare disinformazione. Questi sono lavori che comportano 5 milioni di investimento. Dopodiché è anche necessario dire che su quel cantiere si lavora 16 ore al giorno su 24 e si lavora anche il sabato. Perché non si lavora di notte? Perché quella tipologia di lavori, così come avviene nei cantieri di autostrade, come avviene nei cantieri di Anas, non è consigliato di farle di notte per la sicurezza dei lavoratori stessi e per la sicurezza degli automobilisti, ma anche per la qualità del controllo e quindi per la qualità del lavoro. C'è anche da dire che se i lavori fossero fatti di notte non si risparmierebbe ovviamente la metà del tempo perché di notte la produttività è molto inferiore e perché, come ho detto e sottolineo, si lavora per due terzi del giorno a pieno ritmo. La Regione ha anche implementato l'informazione a chi viaggia, i treni sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa ed è in fase di perfezionamento un accordo con autostrade per agevolare chi percorre spesso il tratto interessato dai lavori.